Cari amici di Shysound, ero da un po' che pubblicavo un video, un tutorial su esperienze di vita oggi vi propongo, visto le molte richieste pervenute in questi mesi un tutorial su come si riscalda la voce prima di un concerto ecco, è una cosa importante perché appunto quando si sale sul palco bisogna performare e bisogna performare nel migliore dei modi e quindi è necessario preparare la voce a essere performante, prestante, elastica ecco, il consiglio che do a tutti è di trovare un bagno trovare un bagno come l'ho trovato io in un albergo prima del concerto trovare un rubinetto, una lametta da barba e aprire l'acqua calda aprire l'acqua calda talmente calda che faccia vapore perché questo vapore vi permette di umidificare le vostre mucose e quindi permettere alle mucose di avere un corretto funzionamento un corretto recupero e adattamento alle prestazioni ma la cosa più importante oltre l'acqua calda è trovare e farsi la barba una cosa che consiglio proprio a tutti, donne comprese farsi la barba prima di metterci si scalda io non ho la schiuma da barba quindi ho preso una saponetta che è qua, oriunda, indigena dell'hotel e con questa saponetta ora vado a creare il contesto finché io possa farmi la barba ok, se poi ho raggiunto una schiuma da barba come le persone normali forse è meno, io inizio a riempirmi di questa morbida schiuma più o meno, si fa perché si può di più, io non riesco quindi qua si inizia, inizia la fase sto già respirando il vapore quindi sento già il beneficio il beneficio delle mie mucose una rametta, possibilmente con la striscietta blu che è fashion e poi si inizia a radere e mentre si rada è importante trovare una melodia adatta alla rasatura ecco, l'acqua bollente sta iniziando il vapore una melodia adatta, per esempio ascoltando la ventola del bagno si può capire la nota e intonare una melodia medio orientale che sia appunto in tonalità con la ventola o comunque sia in un rapporto tonale perché è una melodia che permetta un'evoluzione uno stretching, un adattamento tra il soft e tutto quello che può esserci mentre faccio la barba, così respiro faccio la barba, agisco col braccio metto in modo i muscoli del collo non li irrigidisco e inizio a cantare inizio da qua per esempio queste B queste B che sono tanti sono tanti sono tanti non li sono tanti Sommi sommo a chi è l'appoi Non puoi adicare Sommi sommo Sommi sommo Sommi sommo Sommi sommo Sommi sommo Sommi sommo Facendo così la laringe non può muoversi Sommi sommo Sommi sommo